Ragazzuoli, ciao a tutti, è Match Day, è Match Day quindi sicuramente una giornata importante ma nel momento in cui obiettivamente la partita in questione è Juventus-Verona, mancano ancora obiettivamente diverse ore prima dell'inizio del match e magari anche per il fatto che non sia una di quelle partite che ti fa venire l'ansia e l'adrenalina giorni prima, ecco una volta presa questa notizia che per dovere di cronaca in realtà è di ieri, mi sembra giusto soffermarsi un attimino su questa cosa con la speranza che la Juventus riesca a lavorare per il meglio, una volta scoperto giustamente tutto ciò che sicuramente loro lo sapevano a tempo debito, ci mancherebbe altro, noi tifosi un pochino meno vedendo che tutto quanto più o meno usciti in 4-4-8 ed è già ufficiale di fatto, ovvero che Matteo Tognozzi non sarà più il responsabile scout della Juventus perché ha deciso di accettare sin da subito quindi praticamente con effetto immediato il ruolo di responsabile dell'area sport, direttore sportivo, chiamatelo un pochettino come volete, del Granada quindi club spagnolo e insomma questa notizia non è poi così tanto da sottovalutare, nel senso uno ci può stare che si possa porre l'interrogativo adesso con tutto il bene, Matteo Tognozzi chi cazzè appunto come detto prima è il responsabile o quantomeno era vedendo che non lo è più nel momento in cui ha deciso di accettare l'impegno del Granada era il responsabile degli scout della Juventus quindi di fatto quella figura, quella persona che dal 2017 di fatto fino a ieri, l'altro ieri, più o meno l'intervallo di data è quello lì ha portato alla Juventus tutti quei talentini che magari quando sono arrivati erano sconosciuti, ignoti e che nel corso dei mesi, delle partite, degli anni sono diventati dei giocatori che potrebbero fare le fortune della Juventus nel futuro perché se magari in questo momento la Juventus ha sotto contratto gente come anche se in prestito, Hildiz, Urizen, Iling Junior, Barrenecea, tutta questa gente qui che in un futuro potrà far, no, potrà essere considerata gente importante della Juventus e grazie a figure come Tognozzi che sono state abili a scovare del talento prima di tutti gli altri o essere in grado di portare a casa il talento in questione nonostante magari un'importante concorrenza come era nel caso di Hildiz, come era nel caso di Urizen, come era nel caso di Iling Junior e comunque vuoi o non vuoi, nel momento in cui ti viene a meno una figura di questo genere ovviamente non sto qui a dire che è tutta disgrazia, assolutamente no, perché dipende come questa figura la vai a rimpiazzare infatti la bravura deve essere sempre qui sicuramente sai che cosa perdi perché perdi uno che nel suo lavoro era obiettivamente un fuoriclasse una figura che ti ha portato potenzialmente centinaia di milioni a livello di patrimonio umano senza esagerare tra le altre cose perché se sommi il valore dei cartellini di tutta la gente che Tognozzi ha portato alla Juventus soprattutto la qualità di diversi nomi tra questi viene da sé che si parla veramente di decine su decine su decine di milioni di euro quindi sai che cosa perdi sicuramente un fuoriclasse chi troverai? Ecco, qui la Juventus senza ombra di dubbio dovrà essere brava a mettere la figura ideale, la figura consona e non sto qui a dire no, non va minimamente bene nome X, nome Y, nome Z obiettivamente non lo so però dovrà essere sicuramente brava perché in questo ruolo ha perso un fenomeno e dovrà essere in grado di rimpiazzare quel ruolo importante perché responsabile degli scout, il capo scout è sicuramente un ruolo abbastanza importante in società poi come la Juventus con un nome altrettanto importante perché è bene o male anche nel momento in cui stesso la società dice noi dobbiamo iniziare a puntare sulla linea verde sulla futuribilità sul minimo costo e massima resa probabilmente anche no? ecco, sicuramente una figura come Tognozzi era una figura che questo è riuscita a farlo più che discretamente bene tanto su Le lo stiamo vedendo un pochino tutti Iling Junior lo conosciamo un pochino tutti quanti Uizen, Hildiz, Barrenecea insomma, bene o male no? e probabilmente anche tanti altri giocatori che sono comunque tra l'Under 19 e l'Under 23 e magari meno blasonati con meno esperienza nella prima squadra della Juventus che magari sono anche proprio già andati via e quindi non ti vengono in mente questi nomi però persona di livello abbastanza alto come professionista e soprattutto se decidi appunto di intraprendere la linea del futuribilità magari mi costruisco in casa il talentino affinché poi mi ritrovo un giocatore importante spendendo praticamente zero avendo puntato su di lui quando nessun altro lo faceva perché magari era un ragazzino per fare tutto questo hai bisogno di figure estremamente preparate estremamente valide come sicuramente Tognozzi era e attenzione perché ho letto anche di questo attenzione non la voglio far passare questa qui come una critica alla Juventus anche perché quantomeno io non ci vedo il motivo nel senso ho visto molti che hanno detto tra le altre cose vabbè però anche Tognozzi che tipo di ambizione ha passare dalla Juventus al Granada attenzione ragazzi attenzione perché la Juventus era comunque il capo degli scout che sicuramente per l'amor di Dio non è un ruolo su cui sputi sopra a maggior ragione se lo ricopri all'interno della Juventus quindi sicuramente non il primo club di merda che hai sottotiro però va a ricoprire il ruolo di direttore sportivo di responsabile dell'area sport chiamiamolo un pochettino come ci pare e se lui voleva fare questo passo giustamente nella sua carriera e ha colto questa possibilità qui cioè penso che non sia obiettivamente colpa di nessuno ho visto anche già molti che dicevano ecco la Juventus invece doveva licenziare Manna e mettere Tognozzi al posto di Manna perché? anche perché tra le altre cose comunque il responsabile dell'area sport della Juventus non è Manna e Giuntoli cioè tra le altre cose dopo che ci siamo fatti due maroni così in attesa di Giuntoli no 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 sfanculiamo subito Giuntoli e mettiamo Tognozzi al suo posto e poi tornerebbe anche un solito problema che spesso e volentieri ci siamo fatti negli ultimi anni alla Juventus nel momento in cui ci sono sempre queste promozioni interne e continue che non è che abbiano portato questi grandissimi risultati invidiabili in tutta Europa nel momento in cui è iniziato ad andare via Marotta dove è subentrato Paratici dove poi è subentrato Cherubini dove poi è subentrato non lo so chi è subentrato vabbè adesso è Giuntoli ma insomma tutta questa serie di promozioni interne chi lo sa come sarà Tognozzi a livello di responsabile dell'area sport sapevamo che come capo scout come scout lì probabilmente era un fenomeno ma un pochino come era un fenomeno Paratici ma nel momento in cui lo metti a svolgere dei compiti che non sono propriamente nelle sue corde magari Tognozzi sarà un fenomeno anche lì e farà da Dio anche lì glielo auguro obiettivamente perché è una persona estremamente preparata estremamente qualificata e quindi ci mancherebbe altro che non possa mettersi in mostra anche come responsabile dell'area sport però purtroppo sono scelte della vita scelte che si fanno e che sono semplicemente da accettare né più né meno senza andare a criticare Tognozzi perché è passato dalla Juventus al Granada con un ruolo un pochettino differente e un pochettino più blasonato quello del Granada con tutto il bene del mondo così come non bisogna buttar merda sulla Juventus perché perde comunque un fenomeno come Tognozzi è vero che per molti è quasi una necessità buttar merda nei confronti della Juventus e una volta che questo ha purato a posto accantoniamo ma nel momento in cui tu comunque il ruolo di responsabile dell'area sport non ce l'hai da offrirlo a Tognozzi che voleva fare un salto di qualità a livello di compiti da ricoprire purtroppo le strade si separano e tanti saluti l'unica critica che può essere fatta in un qualche modo la Juventus è qualora il sostituto di Tognozzi non si dovesse dimostrare all'altezza del predecessore ma qui ovviamente ai posteri l'ardo a sentenza perché magari anche qui Luisen lo prendi un anno e magari ti sboccia due, tre, quattro anni dopo quindi ci vorrà del tempo per sapere se il sostituto di Tognozzi sarà stato in grado di non far rimpiangere il suo predecessore l'unica cosa è che a prescindere dal nome che al momento il nome non si sa è innanzitutto in bocca al lupo in bocca al lupo perché bisognerà lavorare e molto bene per non far rimpiangere Tognozzi e soprattutto poi speriamo semplicemente che la scelta sia giusta ecco tutto qui detto questo dispiace dispiace obiettivamente perché quando perdi dei fenomeni dispiace ce n'erano probabilmente pochissime di persone realmente competenti all'interno della Juventus nell'ultimo periodo e sicuramente Tognozzi era una di queste però purtroppo ragazzi adesso obiettivamente se uno vuole passare da essere capo scout a essere direttore sportivo così li devi fare se c'è un club disposto a offrirgli quel ruolo nulla magari si sperano lo so in un futuro di riabbracciarlo come direttore sportivo perché avrà dimostrato di essere estremamente valido anche in quel ruolo ecco più di quello sinceramente al momento non mi sento di dirlo detto questo ragazzuoli voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve un grosso abbraccio Ciao